Fioccano le disposizioni e le iniziative sui territori comunali per fronteggiare l'emergenza coronavirus. A Vallo della Lucania il sindaco Tony Aloia ha scritto al presidente della regione Campania per mettere a disposizione il centro espositivo fieristico artigianale di Pattano per poterlo adibire al luogo di cura dei pazienti affetti da coronavirus. Aloia spiega che si tratta di quattro ampi padiglioni vicini allo svincolo di Pattano e alla casa di cura Cobellis con tutti i servizi annessi e anche con lo spazio di atterraggio per l'elisoccorso. Anche Vallo della Lucania c'è ha scritto Aloia De Luca ed è a sua completa disposizione. Lo stesso primo cittadino intanto ha scritto anche all'avvocato Antonio Bruno dell'associazione Spazio Diritti rispondendo così all'esortazione rivolta gli da questo di assumere misure anticrisi in questo difficile momento. Il primo cittadino ha fatto sapere che la giunta comunale ha disposto l'esenzione per il mese di marzo della TOSAP per gli esercizi sottoposti a riduzione di orario o a chiusura per il coronavirus, il differimento al 31 maggio dei termini di pagamento dei tributi locali con scadenza a marzo, le disposizioni che nuove rateizzazioni dovranno prevedere la prima data di scadenza non antecedente al 31 maggio e la sospensione dell'attività di notifica di avvisi di accertamento e di ingiunzione fiscale fino al 3 aprile. L'aggiunta ha dato anche indirizzo agli uffici per valutare di posticipare o diluire il più possibile le scadenze dei tributi. Intanto a Vallo si lotta anche su un altro fronte, quello di preservare e rinforzare il San Luca. A Loia si è fatto promotore di una sottoscrizione per donazioni volta all'acquisto di nuove attrezzature elettromedicali da destinare all'ospedale Vallese. Presso la banca del Cilento è stato aperto un conto corrente dedicato.